Ok, saranno 25 gli atleti in partenza, almeno 18 sarà Campana. Non è che la passa partenza su 10 km. Nessuna alimentazione. Ok, ok, la scuola non funziona. Ed è partita questa ultima semifinale in programma questa mattina. E' già Colombia-Italia, Francia le prime tre posizioni. Colombia-Italia con Bramante. Francia in la terza posizione. Colombia-Italia. Il leader è ora. Squabbles in the middle of the pack to take the good position. Colombia inside. Bramante take the second position. Francia in la terza. Belgium. Another French skater. Go to the third position. Fighting for take the good position. Now we are in 22 laps to go. Colombia-Italia-Francia. Top of the three position now. Siamo alle... Almeno 21 al passaggio ancora. Colombia-Italia-Francia. Siamo alle prime tre posizioni. Gruppo compatto. Un po' staccata. Giappone deve rimanere in contatto col gruppo. Per non incappare nella prima eliminazione. Ma ancora Colombia-Italia-Francia. Colombia-Italia-Francia. This is the top of the position. And now Colombia. And now Colombia. Non cambiano le posizioni in testa. In questo momento ancora Colombia. Colombia. All'interno adesso. Cambia in seconda posizione. Ai meno 19. Colombia-Portogallo. Italy. e adesso Colombia hold the first position following up for Italy, Portugal French, Belgium Argentina, Ecuador squad ball with take the 6 or 7 position now don't change the lead in this moment check for Bramante the skate he's had 17 laps to go sono 17 ancora Belgio in prima posizione 4-4-0 first warning 4-4-0 first warning e adesso Belgio in prima posizione sentiamo la campana campana quindi sarà eliminazione passaggio Italy in third position Belgium take the second lead in outside French elimination elimination 2-7-7 warning 2-7-7 warning Bramante Italy numero 71 eliminato 71 eliminated thank you 71 ed è ancora Francia in prima posizione 1-3-2 1-3-2 1-3-2 warning Ecuador Colombia leading the race at 13 laps to go number 3-3-3-3-0-0 300 eliminato now skater in drifting preparing for the next elimination Colombia Italy French Colombia in first position Italy Bramante si fa sotto adesso l'atleta dell'Ecuador per mettersi in quarta e quinta posizione con il belgio si va all'eliminazione elimination 4-4-4 eliminated 4-4-4 eliminato 4-4-4 era l'atleta israeliano a lasciare la pista attenzione la caduta attenzione la caduta purtroppo attenzione skater slow down slow down please caution 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 auto the bend please caution neutralize the race neutralize the race neutralize the race take the position don't change the position please skater hater the race is frozen please do not overcome stay there stay in line keep your position don't change the position please skater don't change the position race neutralizer guardate fuori dalla band ok quindi ripartirà la gara ai meno nove quando darà l'ok il giudice resume the race ok Ok, down the line the race is restarted, resume the start, resume the start, the race please, sorry. Ok, 9 laps to go. Ok, 9 laps to go, he's French in the first position, Colombia, Belgium, Swiss. Quindi al passaggio sarà Campana, bring the bell for next lap, elimination. Ed è ancora Francia, Colombia, Belgio nelle prime tre posizioni. Elimination in the line, elimination, elimination. 122, 122, eliminated, 1, 2, 2. Now we have 6 laps to go, French, Colombia, Belgium, Swiss. In the slipstream in this moment, the peloton. France, lead the race and elimination, elimination on the line. 420, 420, eliminated, 4, 2, 0. United States, leave the race please. And now he's in the Swiss in the first position. Ed è Svizzera in prima posizione, Colombia, Francia, Belgio. Queste le prime quattro posizioni, abbiamo sentito appunto la campana, quindi al passaggio, eliminazione, elimination on the line. 118, 1, 1, 8, eliminated, 1, 1, 8. Era Procop, Michael, leave the race please. E ancora, eliminazione, eliminazione ancora, Swiss, Colombia, French, Belgium. For the last elimination now, Colombia, take the lead. 106, eliminato, 1, 0, 6, eliminated, 1, 0, 6. One last to go, one elimination, last elimination. It's a last meter, last corner for Colombia inside the French for take the second lead, the Belgian. 158, eliminato, 1, 58. All right, stretching for French, Colombia and Belgium. And the last elimination. And finish the race now. 29 minutes. Okay. E con questa si conclude. Also, over there. And if we don't see you next week.